quando ti sei avvicinato a questo lavoro quando hai deciso di intraprendere questa carriera dove sei nato dove hai vissuto raccontami un po del passato ok dobbiamo andare un po indietro nel tempo diciamola così sono dei castelli romani originario dei castelli romani e mi sono avvicinato a questo mondo durante l'era dell'università ero a viterbo mi sono laureato in agraria e in quel periodo anche un po per sostenere i miei studi mi sono avvicinato nel mondo del bartending lavorando in alcuni disco club all'epoca della città di viterbo e fin dal primo momento sono mi sono completamente innamorato di questa di questo lavoro di questa e mi è nata così una passione forte verso verso i clienti verso la gente verso il nightlife poi crescendo sempre di più ovviamente l'aspetto del bartending dentro le discoteche si è smorzato ma non la passione che è cresciuta e mi sono avvicinato così al mondo degli hotel primissime esperienze sono state qui a roma nell'hotel aldo grandi che poi da lì in poi successivamente mi ha lanciato verso altri scenari e orizzonti ho avuto l'opportunità di viaggiare andare a dubai dove ho incontrato per la prima volta un'azienda internazionale marriott che ancora oggi insomma ci lavoro e lì era il riscalton del finance center è stata una delle esperienze lavorative più interessanti un ambiente completamente del cosmopolita e con dentro lo stesso hotel eravamo circa 80 nazionalità differenti e quella è stata sia un arricchimento a livello professionale ma anche a livello culturale perché 80 nazionali nazionalità differenti è stato veramente bello da scoprire ecco questo questo mondo intorno alla nostra piccola italia mi piace sempre fare questa domanda comunque tu oggi sei tra virgolette il risultato di tante esperienze di tanti insegnamenti del passato ad oggi quali porti con te magari quali vuoi trasmettere al team quali sono i valori fondamentali per fare questo lavoro occorre essere leali sia verso i clienti e quindi mantenere la promessa del servizio e poi essere anche leali con i propri colleghi nel senso si affrontano molte volte bellissimi momenti in quel caso si è sempre amici però in realtà i momenti più nei momenti più difficili che occorre essere vicini e occorre essere leali e allora dalle sconfitte si impara e si riesce a crescere insieme in realtà non c'è una sola esperienza che ricordo e porto con me come esempio unico ma in realtà è tutto un susseguirsi di tantissimi ragazzi con cui ho lavorato insieme tantissime ho avuto anche la fortuna di lavorare con professionisti di spessore internazionale dai quali ho imparato molto anche oggi ho la fortuna di far parte di questo gruppo dove il nostro general manager cristian zanondonella è davvero a espirational person che tutti i giorni ci dà un po una motivazione in più per fare bene il nostro lavoro parlando con te da pochi minuti percepisco una grande sensibilità nel modo in cui parli nel modo in cui magari vedo che mi ascolti in che modo è fondamentale avere questo forse questo dono perché è un dono la sensibilità nel tuo lavoro in che modo poi questo ti permette di avvicinarti sia al team sia agli ospiti allora è sia un dono ma anche una caratteristica che ho migliorando negli anni avere la sensibilità di parlare di cogliere gli aspetti e motivi delle persone oggi è veramente rilevante nella professione che faccio in effetti il servizio 5 stelle luxury definito così no stiamo spingendo sempre di più le attenzioni oltre che a del taglio dei tavoli dei bicchieri del servizio della qualità del cibo ma stiamo veramente spingendo l'attenzione a toccare le emozioni all'interno delle persone e allora ecco dopo tutto questo percorso si riesco ad oggi a leggere tra le righe riesco ad accorgermi grazie insomma all'esperienza che ho maturato le emozioni che le persone intorno a me vivono e questo è utile sia verso i nostri clienti ma anche essere responsabile di un grande team come quello che ho oggi mi permette di essere vicino a tutti loro e diciamo a tutte le loro famiglie perché non è soltanto un dipendente singolo ma bensì dietro ogni dipendente c'è anche una famiglia un fratello una madre una moglie un bimbo questo è un dettaglio importante che mi fa piacere ascoltare difficilmente si incontra una persona che magari che hanno questa sensibilità nel capire che comunque il team è fatto di persone e le singole persone come dicevi tu hanno una famiglia fai questo lavoro da diversi anni hai avuto la fortuna di viaggiare di provare di lavorare in diversi ambienti secondo te da com'era questo lavoro com'è diventato quali sono stati i cambiamenti al di là si come dicevi prima del fatto che c'è un luxury un lusso diverso in che modo proprio giorno dopo giorno magari anche dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è cambiato oggigiorno il vero la cieli al momento vivere al cento per cento l'esperienza all'interno di questo spazio in questo ristorante nel bar nella live room nella stanza il momento è diventato il vero secondo me no il vero luxury avere il tempo per spendere insieme a una persona siamo un amico insieme a un conoscente e dopo tutto il nostro background a livello di ristorazione a livello di hospitality è quasi diventato inopportuno bere un cattivo caffè o che non sia servito bene o che non sia a giusta temperatura o che no addirittura non sia buono e quindi secondo me oggi l'hospitality la luxury hospitality essere sempre presenti sempre ad altissimi livelli qualsiasi sia il prodotto o l'esperienza abbiamo parlato nel tuo passato finalmente so qualcosa di in più di te come ti sei sentito quando sei stato nominato beverage and food director qui al w beh innanzitutto contentissimo per la diciamo chiamiamo la nomina per per questa nuova challenge per questo nuovo target che insomma che dobbiamo raggiungere con la squadra e per il nome bnf forse è una delle pochissime forse l'unica compagnia al mondo che le due lettere sono invertite nel w diamo davvero tantissima importanza a quello che è il beverage e abbiamo un programma nell'hotel davvero variegato proponiamo cocktail molto attuali e e io stesso ho tutto il mio passato nel nel beverage più che nel nel food vengono vengo dai bar vengo quindi completamente comfortable nel ruolo e spero che le persone che ci seguono che ci verranno a trovare la nostra proposta la trovino interessante parlando di beverage cosa puoi raccontarmi so che c'è un'offerta enorme che copre un po diciamo tutti gli ambienti in che modo allora sì la nostra la nostra offerta a livello di bere penso che sia attuale interessante allo stesso momento proponiamo nei nostri ambienti carte differenti con cocktail list differenti con anche carte di vini differenti la il mio general manager mi ha chiesto insomma un po di tempo fa prima addirittura capissimo l'hotel di trovare una carta di vini poco formale ecco non vogliamo dividere i vini in bianchi rossi bollicine rosati ma bensì abbiamo diviso la nostra carta di vini seguendo le nostre ancora una volta seguendo le nostre emozioni ovvero abbiamo dato rilievo per esempio alle donne del vino a tutte le produttrici oggi che fanno vino le maggiori rappresentanti che vanno dalla sicilia fino al trentino alto adige e abbiamo seguito quindi questa emozione abbiamo seguito un ulteriore suddivisione è stata la suddivisione dei millennials ovvero tutti i ragazzi che noi riteniamo sotto i 40 anni che si sono messi in gioco e hanno e stanno scommettendo sul loro futuro e sulla terra quindi ancora una volta è ancora una volta sottolineo no questa nostra vicinanza ai ai ragazzi emergenti e un ulteriore suddivisione abbiamo fatto la viticultura eroica delle piccole isole quindi supportare il territorio supportare lì dove è veramente difficile coltivare la terra dove fanno ancora oggi raccolgono l'uva a mano perché con date le le condizioni geografiche non possono arrivarci con appunto mezzi e quindi supportiamo questa questa causa e poi l'ultima che però in realtà non è l'ultima è soltanto una classifica un po così c'è cool labels perché oggi no dopo l'avvento di apple che ha portato l'attenzione mondiale a quello che è oggi il design e allora allora pure noi ci siamo un po messi al passo con i vini abbiamo questa categoria di cool labels una serie di una selezione di divini che hanno un design accattivante che noi ripetiamo che siano cool no bellissimo e questo e questa è la nostra offerta per quanto riguarda i vini è un approccio nello specifico ci piacciono vini naturali vini biologici biodinamici sono vini non convenzionali e quindi sfogliando la nostra carta molti dei nostri clienti si trovano impreparati nel leggerla e fanno molte moltissime domande e apre una finestra la finestra del dialogo la finestra della convivialità quindi sono oggi riusciamo a essere interessanti anche se il nostro cliente è veramente molto attento al dettaglio e alla scelta dei prodotti hanno descritto l'apertura del w qui a roma con diversi aggettivi perché comunque il w è riconosciuto per avere un'anima di ribelle per avere un'anima non convenzionale per il fatto di non seguire le regole magari di crearne di inventarne di nuove tu caratterialmente come ti sei trovato con questa anima così inusuale diciamo nel nel lusso quando uno dei nostri clienti entra dentro un hotel si crea si costruisce un'immagine ha già forse consolidato ha già consolidato la sua aspettativa il mio ruolo da ribelle in quel senso è distruggere la sua aspettativa e fargli vivere un'altra esperienza e noi siamo credo che noi quello che stiamo facendo siamo bravi in questo perché nessuno di tutti i clienti con i quali ho avuto l'opportunità di parlarci si sarebbe mai aspettato quello che facciamo oggi tutti i giorni con il gruppo in sala al bar in stanza e questo mi affascina moltissimo e sono veramente contento di vivere questa esperienza con loro perché io faccio parte e vivo l'esperienza insieme ai nostri clienti si può dire che questa è la tua carica corretto corretto per venire qui ogni giorno e dare il massimo corretto